Per due settimane gli eserciti rimasero a guardarsi. L'inverno ormai si stava avvicinando e l'imperatore non sapeva cosa fare. Ad attaccare i lombardi con l'inverno che avanzava gli poteva essere fatale, ma se si ritirava ad aspettare la primavera rischiava di perdere la supremazia del suo esercito. Entrambe le scelte avevano i loro pro e contro. Allora giocò d'astuzia e fece spargere la voce che si ritirava a Cremona a passare l'inverno ed abbandonò il campo dirigendosi verso Suncino in attesa delle mosse dell'avversario. Le truppe scelte lombarde che difendevano il carroccio pensando che dicesse la verità se ne tornarono a casa. Gli bergamaschi, per ordine dell'imperatore, si erano attestati a cividate al piano e con segnali di fumo avrebbero avvisato Federico II quando l'esercito della Lega avesse superato il fiume Olio. E quando furono sicuri che ormai fra Puntoglio e Palazzolo sull'Olio i lombardi lo avevano superato tutti, con segnali di fumo avvisarono l'imperatore e lui partì immediatamente per Colte Nuova, distante una manciata di chilometri. E poco dopo si trovò davanti l'esercito lombardo. La battaglia è stata tra le più cruenti del suo tempo. L'esercito della Liga Lombarda venne travolto dalla cavalleria e si diedero alla fuga. Altri caddero sotto le frezze degli arcieri saraceni, mentre i sopravvissuti cercarono rifugio a Corte Nuova. Mentre i soldati che erano a difesa del carroccio, piuttosto che arrendersi, preferirono morire sul campo. Calata la notte, i combattimenti cessarono. L'imperatore, per tenere alta l'adrenalina ai propri soldati, gli ordinò di andare a dormire con le armi indosso. L'esercito della Liga Lombarda, invece, sapendo che non avrebbero resistito un'altra giornata di guerra, col favore delle tenebre abbandonarono a malincuore sia il carroccio che tutti gli armamenti pesanti, cercando la salvezza nella fuga. Mentre il 28 di novembre Federico II entrava come vincitore in Corte Nuova, mandava la sua cavalleria all'inseguimento dell'esercito in rotta e fu un macello. I bresciani, incalzati dai cavalieri dell'imperatore nella fuga di attraversare l'olio che era in piena, perché i ponti erano presidiati dai bergamaschi, la maggior parte di loro annegarono. Il comandante della Liga Lombarda, che era il figlio del doge di Venezia, fu catturato. E i bergamaschi, che dai bresciani le avevano sempre prese sonoramente, sia nella battaglia di Palosco che quella di Rudiano, e i video li potete trovare in rete, pareggiarono i conti. Quanti furono i morti di preciso da parte dell'esercito della Lega Lombarda non si seppe mai. I soldati milanesi uccisi durante lo scontro sono stati 2.500, invece i prisionieri totali furono 5.000. L'imperatore, forte della sua vittoria, entrò trionfalmente nella città di Cremona con il carroccio abbandonato dai nemici e privo di ogni ornamento, e trainato da un elefante bardato a festa, sul quale vi aveva legato il loro comandante Pietro Tiepolo, e dopo averlo rinchiuso in diverse prigioni, decise di mandarlo al patibolo, tirandosi addosso l'ira della Repubblica di Venezia. La Lega Lombarda venne sciolta. Lodi, Novara, Vercelli, Chieri e Savona gli fecero atto di sottomissione, mentre Amodeo IV di Savoia. E Bonifacio II del Monferrato gli riconfermarono la loro amicizia. Federico II era all'apice del successo. Milano era talmente debole che firmò la pace senza batter ciglio e non la conquistò, calcolandola ormai impotente. Brescia, vedendola pure lei abbandonata da tutti, la lasciò al suo destino e gli tolse l'assedio. Grazie. 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 Grazie.